Nicola Salenati, allenatore responsabile del fondo della Fisi FWG, che cosa ci aspettiamo da questi ragazzi in questa stagione? Direi che il gruppo è di ottimo livello, abbiamo tanti atleti inseriti nelle squadre nazionali e nei corpi militari, sono sicuramente atleti che hanno dimostrato nella stagione passata il loro valore, sarà dura riconfermarsi, però stanno lavorando tutti quanti per migliorarsi in ogni caso e quindi questo è un punto fermo dove noi partiamo. Il gruppo è omogeneo, è amalgamato bene, sta lavorando molto, abbiamo aumentato i raduni e quindi gli incontri per lavorare assieme e questo sicuramente è un punto di forza del nostro comitato, tanti comitati in questo momento ci guardano perché vedono che i risultati sono dalla nostra parte e quindi vogliono capire un po' anche il segreto. Il nostro segreto è semplicemente stare più giorni assieme e lavorare, il lavoro sicuramente paga.